Grazie. 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 Passiamo subito la parola ai datori di questo incontro. Passo la parola a un grande amico che mi ha chiesto a dire che è qui e non ci potevo assolutamente perché è una persona che è un trascinatore, lo ritengo, una persona fatta di una grandissima energia. Passo la parola ad allenarmi questo libro.